Ecco il capitano, capitano contro Sereni, 37 minuti, 27 secondi, è pronto il capitano, Totti contro Sereni, parte il capitano, e il tiro! 178, 178, 178 gol per questo straordinario giocatore, tutti in piedi, tutti in piedi e va a applaudirlo, tredicesimo gol in maglia giallorossa, quinto rigore trasformato, 178, la storia porta il nome di Francesco Totti, ed è la storia non solo del calcio italiano, ed è la storia del calcio della Roma, ma proprio la storia del calcio italiano che porta il nome di Francesco Totti, al trentottesimo minuto il gol del capitano sul calcio di rigore, ed è il gol numero 178, raggiunge Poli Perti nella consiglia di sempre.